Veri e propri talenti che con passione, dedizione e studio sono riusciti ad ottenere brillanti risultati in numerose competizioni nazionali promosse dal Ministero dell'Istruzione e del Merito e due competizioni internazionali, tutte nell'ambito di materie scientifiche, dall'astronomia alla robotica al problem solving e tante altre. Oltre 200 studenti di 27 istituti superiori leccesi hanno portato così in alto il nome del Salento e per premiare questi prestigiosi traguardi la provincia di Lecce ha deciso di dar loro un particolare riconoscimento che è stato consegnato nella cerimonia organizzata al Centro Congressi dell'Ecotecne. E per tutti gli studenti l'esperienza vissuta in queste importanti competizioni è stato un momento di crescita non solo dal punto di vista scolastico ma soprattutto umano. Io ho partecipato alle Olimpiadi di chimica e mi sono qualificato alle finali nazionali, è stato molto bello come esperienza, sono stato con dei ragazzi che non conoscevo e che mi hanno arricchito sia fisicamente che mentalmente diciamo. Mi ha dato tanto, ho scoperto molto della chimica, mi ha fatto piacere partecipare, non abbiamo dato i migliori risultati ma si punta sempre al massimo. L'esperienza che vale molto, vale, anche se va per me che per i miei compagni di squadra chiaramente. Certo sì, la paura all'inizio di sbagliare ma di una estrella d'altezza c'era, però comunque sia ci insegnano sempre che bisogna sempre buttarsi o provare nelle cose, non importa il risultato quanto tanto l'esperienza che si fa e che qualcosa le impari sempre. Grazie. Grazie. Grazie.